L'abbraccio della comunità di Larino alla mamma Pina e a tutti i familiari nel giorno dei funerali di Victor Imbucci, celebrati nella chiesa della Beata Maria Vergine delle Grazie. La messa è stata presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca insieme al parroco Don Antonio e un frate Cappuccino. In tanti hanno preso parte alla funzione, in silenzio e rispetto, a distanza di un mese dal ritrovamento dell'auto al porto di Termoli, a cui interno c'era il corpo della donna di 42 anni, solidarietà, partecipazione e vicinanza nel ricordo di tanti momenti passati insieme ed esperienze. Tra i presenti anche l'ex marito Andrea, che ha voluto esserci per l'ultimo saluto a Vicky, così come tanti amici della classe 77. Nell'omelia il vescovo De Luca si è soffermato su due aspetti, uno umano nel condividere una storia positiva di accoglienza che Vicky ha trovato a Larino, in una famiglia che l'ha accolta e custodita con amore e in una comunità in cui si è pienamente integrata. L'altro spirituale, nell'accogliere ciò che la parola di Dio presenta, non fermarsi alla circostanza di una fine tragica inattesa, ma guardare oltre in un Gesù che, ha osservato il vescovo, si fa compagno e apre con la fede la vita piena dell'eternità. Una famiglia approvata dal dolore, che ha voluto ringraziare tutti coloro che in queste settimane di attesa hanno espresso con ogni mezzo affetto e vicinanza il nulla osta alla sepoltura da parte della procura e arrivato al termine degli accertamenti medico-legali sul corpo della donna. Si aspettano ora i risultati dell'autopsia eseguita a Bari dall'equip coordinata dal professore Francesco Introna e quelli della perizia effettuata sulla Panda, esami che potranno far luce sulle ultime ore di vita di Vicky e dare una risposta alle cause della morte.